Oggi è il 17 febbraio 2023. In questa data, Michael Jordan compie 60 anni. Come è innegabile che MJ abbia rivoluzionato il gioco, doveva anche affermare che lo ha fatto per il lifestyle e il concetto di sneaker da basket, che era già importante negli anni 90, ma dopo di lui, anche grazie al brand Jumpman, ha assunto un valore assoluto. In una giornata come questa, abbiamo voluto celebrare uno dei più grandi, e le sneakers, chiedendo ai nostri giocatori quali sono le scarpe che utilizzano ora e quali sono state le migliori di sempre che hanno mai avuto. Le scarpe che sto utilizzando ora sono le Nike Precision 6, ho preso appena un altro paio di colori dei Knights ovviamente, e migliori scarpe di sempre? Difficile, potrei dire o Kobe 10 Elite, altrimenti le scarpe che mi hanno fatto ripiangere di non averne comprato 10 paia erano le Nike Hyperdunk che l'ho avuto nel 2017. Ad ora sto usando in casa delle Damian Lillard bianche, e fuori casa sto usando delle Adidas Pro Next. Poi forse la scarpa con cui mi sono trovato meglio in tutti questi anni è una Kobe 4 che mi hanno dato nella rappresentativa della nazionale giovanile, e credo sia stata veramente la migliore mai usata. Le scarpe che uso attualmente sono le Under Armour Home, non so il numero però sono quelle che adesso compran tutti perché sono molto comode. Io mi ci sto trovando molto bene e le scarpe migliori di sempre che ho avuto sono indeciso se le Hyperdunk 2017 oppure queste qui scalano la classifica. La scarpa con cui mi sto trovando meglio quest'anno sono le Lebron 20 che è una linea che io non avevo mai usato perché non mi ci trovavo bene, però questa Lebron è molto simile come calzata alla Kobe 4 che è nella top 3 delle scarpe più comode con cui ho giocato, anche se la mia preferita rimane la Kobe 6 senza paragoni. Ok, in questo momento sto usando le Paul George o le Kyrie Irving. Mi hanno dato tante soddisfazioni anche le Nike Zoom BB da due anni e la migliore scarpa di sempre, secondo me, è stata la Kobe 6 o l'Hyperdunk Low 0. Attualmente sto utilizzando le Lebron 18, mentre le mie scarpe preferite di sempre con cui mi sono trovato meglio forse le Lebron 16 le ricomprerei. La scarpa che sto usando adesso è la Under Armour Spawn 5 colorazione bianca e nera, che è una scarpa top ed è molto bella. La scarpa che in passato ho amato di più è stata la Kobe 6 che ho usato penso 13-14 anni fa nella mia stagione a Treviglio, ce l'ho avuta in due colorazioni, scarpa indimenticale. Le scarpe che sto usando adesso sono un paio di Nike Renew, ma penso che le cambierò a breve perché sono distrutte. Invece scarpa più bella, in realtà ne ho tre. Una è la comodità, le Enduan Tai Chi sono state le scarpe più comode che io abbia mai messo. Quelle che mi ricreano un ricordo bello sono le Jordan Melo M9, mentre le scarpe più belle che ho usato per giocare sono le Jordan 10 Retro bianca e nera, bellissime. Allora quest'anno ho iniziato l'anno con le Paul George perché mi ero trovato benissimo l'anno scorso le PG mi sembra 4 o 5, però nell'ultimo mese ho iniziato a provare le Kyrie 5 di varie colorazioni e mi sono trovato super bene. E invece la scarpa preferita negli anni sicuramente la Nike Hyperdunk 2017 e anche lì mi ricordo scarpa super e avevo preso tante colorazioni e mi ero tratto da Dio. Invece scarpa super e avevo preso tante colorazioni e mi ero tratto da Dio.